Benvenuti al consueto appuntamento con 7 giorni di cronaca, parliamo in apertura della GAM di Boiano in attesa dell'incontro, in vista dell'incontro che ci sarà al Ministero a Roma l'8 febbraio. I sindacati, in particolare la CGL, si rivolgono alle istituzioni e all'azienda. La CGL chiede alla Regione e ad Amadori chiarezza e soprattutto chiede il piano industriale ad Amadori e chiede il rispetto di quelli che erano gli accordi presi. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. E' ancora nebuloso il futuro per i lavoratori della GAM. L'incontro che si è svolto a Roma al Ministero e rinviato al prossimo 8 febbraio non è riuscito a dissolvere i dubbi e le perplessità dei lavoratori e dei sindacati. La sensazione è che il tavolo si è di nuovo bloccato, nel senso che c'è una necessità di andare in profondità rispetto ai problemi. Per il momento siamo ancora alle questioni iniziali, c'è il Ministero che ha aperto il tavolo, l'azienda che ha dato alcune spiegazioni, tutto per il momento ancora da verificare, è la Regione che i compiti a casa al momento non li ha fatti per nulla. Gli unici che in questa fase hanno comunque dato una disponibilità e messo sul tavolo qualcosa sono i lavoratori, perché ovviamente si sta giocando con la loro pelle, si sta decidendo il futuro dell'avicolo a partire da come e in che modo ricollochiamo i 280 lavoratori, sapendo che non tutti rientreranno nell'attività futura. Ma proprio perché non rientrano tutti bisogna capire dalla Regione come li ricollochiamo. L'impegno che il caro Presidente Frattura ha sempre tenuto a precisare è che nessuno sarebbe stato lasciato a piedi. E noi siamo a quell'impegno, però lo vorremmo verificare nero su bianco, più che semplicemente con le enunciazioni del caso. Ecco, si conosce il piano industriale dell'Amadori? Il piano industriale ancora non c'è. Noi abbiamo posto due questioni. L'Assemblea tra l'altro ci ha dato un mandato chiaro scorsa settimana. Una prima questione è legata al piano industriale, cioè Amadori ci deve dire cosa vuole effettivamente fare. Non basta dire che forse tra otto mesi riparte l'incubatoio, quindi forse una trentina di persone a tempo determinato saranno ripresi. Non basta dire che forse fra tre anni ci sarà la possibilità di riavviare il macello. Noi siamo consapevoli che c'è bisogno di tempi che non sono brevi, perché c'è da rimettere ex nuovo in piedi quella struttura. Ma siamo altrettanto consapevoli che c'è la necessità di chiudere un accordo con dei numeri. E quei numeri Amadori deve cominciare a darli. Dall'altro canto c'è la Regione Molise. Tutti coloro che non saranno reimpiegati in Amadori, nell'azienda, cosa ne facciamo? Le politiche attive e passive, la famosa profilazione che doveva fare la Regione per il tramite i centri per l'impiego. A che punto siamo? Non possono presentarsi a un tavolo nazionale senza nessun dato. Parliamo adesso della ex-ITR perché è stata concessa la Cassa Integrazione Inderoga ai 40 dipendenti della OTI. Sergio Di Vincenzo. Una boccata d'ossigeno che non risolve di certo il problema, ma che permette comunque di riprendere fiato. Con il via libera della Regione alla Cassa Integrazione Inderoga, i circa 40 lavoratori della OTI per sei mesi avranno le spalle coperte, coltivando al tempo stesso la tenue speranza che in questo lasso di tempo si pongano le basi per un'effettiva ripresa delle attività. Questo permette di congelare per questo orizzonte temporale le problematiche dei lavoratori e delle loro famiglie dal momento in cui non percepivano alcuna aspettanza dal lontano mese di settembre. Resta però aperta la partita per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali. Per la Cassa Integrazione a zero ore sono stati messi a disposizione poco più di 400 mila euro. Ora tocca all'Inps chiudere la pratica, ma il vero problema resta il risolto, ossia quello di dare un futuro ai lavoratori dell'azienda di Pettoranello. Il fallimento della società controllante, la IKF, non alimenta di certo l'ottimismo, ma per la FEMC-CISL la Regione può fare qualcosa. Resta aperta la partita di tutti quei lavoratori attualmente in mobilità espulsi dalla filiera tessile e rispetto a questi l'establishment molisana dovrebbe fare chiarezza e quindi indicare se punta ancora sul tessile e eventualmente in che modo. La Regione dovrebbe, a mio giudizio, aprire un tavolo di confronto con le parti sociali per fare il punto della situazione e indicare quali possono essere le strade da percorrere e nello stesso tempo bisognerebbe accelerare tutte le procedure affinché possano essere redatti al più presto i bandi per l'accesso ai vantaggi relativi all'area di crisi. Nei mesi scorsi si era parlato di possibili acquirenti per la OTI, ma al momento non sembra esserci nulla di concreto all'orizzonte. Eppure per il sindacato di categoria il tessile può avere ancora un futuro in provincia di Sernia. A mio giudizio sì, la conferma è che ci sono delle start-up già in essere e qualcuna è pronta a decollare sul territorio. Questo perché c'è un know-how di elevata professionalità tra i lavoratori che hanno occupato il mondo del lavoro sulla filiera tessile. E c'è stato un nuovo drammatico episodio al pronto soccorso di Sernia a distanza di un anno e esatto un'altra donna è deceduta. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Nuova morte in corsia al pronto soccorso del Veneziale. Una morte figlia di una tragica fatalità perché, come sempre, non è colpa di nessuno ma solo della tragica carenza di posti letto, personale e risorse con cui deve fare i conti la sanità pubblica molisana. È la seconda volta che succede. Questa volta però sono intervenuti i carabinieri chiamati dai parenti della vittima. La storia è drammatica. Arriva al pronto soccorso una donna 77enne accompagnata dal marito. È diabetica e non sta un granché bene. Ha bisogno di un ricovero e di cure urgenti. La situazione del reparto è già critica. Ci sono decine di pazienti inattese. Le forze sono quelle che sono. Comunque il personale del pronto soccorso fa tutto il possibile. Presta i primi soccorsi e si mette alla ricerca di un posto letto che, purtroppo, non c'è. Le corsie sono tutte piene e la donna deve restare lì al pronto soccorso su un lettino in attesa che venga fuori il posto in un reparto dove ricoverarla. Le sue condizioni già gravi precipitano rapidamente. I sanitari fanno tutto il possibile. Ma la donna muore. I parenti non ci stanno. Protestano. Chiamano i carabinieri che verbalizzano tutto. Era già successo, giusto un anno fa, nel gennaio 2016. Stesso posto, stessa storia. Una donna di 61 anni, dopo aver passato quattro giorni al pronto soccorso, in attesa che venisse fuori un posto letto nei reparti, era morta. Lucio Pastore, ex primario, facente funzione al pronto soccorso, su questa storia non parla, anzi non può parlare, dopo l'ordine di servizio dell'ASREM che chiude la bocca a tutti i dipendenti, ma si sfoga su Facebook, postando queste parole sul gruppo Pensiero Libero, una sorta di sfogatoio per i medici pubblici. Inferno pronto soccorso, dice Pastore. Si chiudono ospedali, si riducono mezzi e personale, aumenta il flusso dei pazienti nei pronto soccorsi e in assenza dei posti letto e altre alternative, si crea l'inferno per degenti ed operatori. Ecco cosa porta questa politica che vuole privatizzare il sistema. Ma l'assurdo di tutto questo è che l'utenza vede negli operatori i colpevoli dei disservizi. Il grado di degenerazione del sistema sta raggiungendo un punto di non ritorno. Attenti tutti, che il sistema sta per scoppiare. E sempre a Isernia proseguono le indagini per fare chiarezza sul caso di un insegnante investita da un pirata della strada morta dopo le dimissioni dall'ospedale. Sergio Di Vincenzo. Chi ha visto sa qualcosa parli, collabori con la giustizia. Questo l'appello lanciato per mezzo dell'avvocato Sergio Sardelli dai familiari di Anna Maria Santilli, 59 anni. L'insegnante di Isernia è investita lo scorso 19 gennaio su corso e risorgimento da un pirata della strada. La donna è morta la settimana scorsa, poche ore dopo le sue dimissioni dall'ospedale veneziale, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente per via di una frattura al bacino. L'inchiesta della procura procede su un doppio binario. Innanzitutto si cerca la persona che ha investito la donna, ma al tempo stesso gli inquirenti vogliono fare chiarezza sulle cause del decesso. Stanno cercando di capire se siano direttamente riconducibili all'incidente oppure se di mezzo ci sia anche un caso di malasanità. In ogni caso, prima di dare una direzione ben precisa alle indagini, tocca aspettare l'esito dell'autopsia, ha detto il procuratore capo Paolo Albano. I risultati arriveranno non prima di due mesi. I reati ipotizzati sono quelli di omicidio colposo e omissione di soccorso. Naturalmente si procede contro ignoti, ma con la speranza che prima o poi la caccia al pirata della strada dia i suoi frutti. Sul luogo dell'incidente, gli uomini della polizia municipale hanno sequestrato un paraurti, mentre grazie alle testimonianze raccolte i vigili urbani sanno che l'auto da cercare è di colore nero, verosimilmente una Fiat Punto. Per individuarla si stanno effettuando anche delle verifiche tra i carrozzieri della zona. Con due distinti provvedimenti adottati lo stesso giorno il Direttore Generale per la Salute della Regione, Marinella D'Innocenzo, ha disposto il pagamento di oltre 4 milioni di euro in favore di due società fornitrici dell'ASREM. Il meccanismo scelto per il pagamento è quello dell'anticipazione di liquidità, in pratica soldi presi in prestito dalla Regione, a Monte dell'Operazione due transazioni gestite dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, voluto dalla Regione. Al vertice di un gruppo che sta gestendo transazioni per centinaia di milioni di euro. Sentiamo Pasquale Di Bello. Con due determine direttoriali emesse lo stesso giorno, esattamente la numero 9 e la numero 10 del 26 gennaio 2017, il Direttore Generale per la Salute della Regione Molise, Marinella d'Innocenzo, ha preso atto di due transazioni e disposto il pagamento per oltre 4 milioni di euro a favore rispettivamente delle aziende farmaceutiche Abbott e Abbvie. Per l'esattezza, la cifra precisa al centesimo è di 4.107.464,46 euro. Il meccanismo al quale si ricorre per effettuare i pagamenti in questione è quello dell'anticipazione di liquidità, ovvero l'utilizzo anticipato di somme di denaro. Questo meccanismo è concesso agli enti locali che non potendo far fronte ai pagamenti per carenza di risorse, possono chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti di anticipare i necessari quattrini. Ovviamente questi denari vanno restituiti con i relativi interessi. In pratica, per liquidare una serie di pagamenti il cui ammontare veleggia nell'ordine di centinaia di milioni di euro, la Regione ha deciso di evitare il contenzioso con i fornitori e procedere ad accordi transattivi per prevenire ogni lite. Per fare questo, però, la Regione non si avvalsa di professionalità interne all'amministrazione, ma ha deciso di affidare la questione ad un gruppo di lavoro il cui coordinamento è stato affidato nel 2015 al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, l'Avvocato Demetrio Rivellino, gruppo integrato nel 2016 con la presenza del dottor Maurizio Grigo, noto alle cronache per aver ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nell'inchiesta Mani Pulite. Sull'intera vicenda vi è da registrare una singolare circostanza, richiamata dalla delibera di Giunta regionale numero 632 del 20 novembre 2015, quella con la quale, tra le altre cose, si individua nella figura dell'Avvocato Rivellino, quella di coordinatore del gruppo destinato a gestire le transazioni. Il legale viene scelto dalla Regione sulla base di due presupposti. Il primo, sul quale nessuno solleva dubbi, è quello della esperienza professionale. Il secondo, ed è questa la singolarità, si riferisce, testuali parole, al ruolo rappresentato nell'ordine forense dallo stesso Rivellino. Ora, poiché l'incarico in questione è verosimilmente da considerarsi a titolo oneroso, andrebbero poste alla Regione un paio di domande. La prima di ordine economico. Quanto spende la Regione per il gruppo di lavoro a cui ha affidato la gestione delle transazioni? La seconda domanda è di ordine pratico. A parità di esperienza professionale, qual è il valore aggiunto rappresentato dall'essere presidente di un ordine professionale? È un ragionamento singolare quello della Regione. È come se per fare l'allenatore della Juve, dell'Inter o del Milan, ad esempio, non bastasse essere uno dei migliori tecnici in circolazione, ma occorresse allo stesso tempo essere pure il presidente della società. Continuano le indagini e le verifiche sui presunti abusi tra minori a carico di bambini più piccoli. I fatti in provincia di Campobasso sentiamo il servizio. Ci sarebbe almeno un altro caso di violenza tra e su minori. Le indagini sono in corso, ma finora sembra che il piccolo di nove anni, che ha finalmente avuto la forza e il coraggio di scappare da un incubo, non sia l'unica vittima. E fra l'altro sembra anche che nella zona dove si sono consumati terribili fatti, qualche voce, come spesso accade nelle periferie, su atti di bullismo tra i ragazzi, circolasse da tempo. Episodi che probabilmente sono stati sottovalutati dalla comunità. E invece dietro quei giochi strani si nascondevano violenze sessuali e sopprusi. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato nei giorni scorsi ai legali dei due unici indiziati, uno dei quali ha 13 anni e non è imputabile. La volontà, ha spiegato l'avvocato Silvio Tolesino, che tutela proprio il 13enne e che mantiene il più stretto riservo sulla delicata vicenda, è quella di dimostrare le straneità e i fatti del mio assistito. Tutti i minori coinvolti, sia i presunti Aguzzini che la vittima e le rispettive famiglie, sono stati ascoltati dagli assistenti sociali. Gli psicologi hanno relazionato sulle loro personalità, per meglio delineare il quadro probatorio su cui lavora adesso la procura minorile. Intanto, nella scuola frequentata dai ragazzi, sono state abolite le pluriclassi. Sembrerebbe infatti che i primi episodi di prevaricazione si siano registrati dopo che i ragazzi più grandi hanno iniziato a seguire le lezioni con quelli più piccoli. La scioccante vicenda ha scosso profondamente la comunità, chiamata ora da tutte le autorità preposte a prestare attenzione ai più piccoli che giocano per strada, spesso ignari dei pericoli di una società sempre più inquietante. Una vicenda che verrà delineata e snocciolata nell'aula di tribunale. Si attende, infatti, che venga fissata l'udienza preliminare. Quello che per ora è certo sono le ripercussioni psicologiche di mesi di violenza e terrore. La costa molisana si conferma a crocevia di traffici illeciti. Ancora un maxi sequestro di droga 64 kg di marijuana. Sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza. Sentiamo. Troga che arriva dal mare. Ancora una volta la Guardia di Finanza ha bloccato un carico di stupefacenti abbandonato da qualche gommone e destinato alla costa al confine tra la Puglia e il Molise. Partito con ogni probabilità dall'altra sponda dell'Adriatico, l'ingente quantitativo è stato recuperato dal reparto operativo e areonavale di Termoli coordinato dal colonnello Roberto Di Vito. Circa 64 kg di marijuana conservati in un involucro impermeabile avvistato alla deriva nel comprensorio dell'arcipelago delle isole Tremiti. Secondo le stime dei finanzieri, la droga avrebbe fruttato al dettaglio nelle piazze di spaccio del territorio almeno 600.000 euro. Le operazioni sono state rese difficoltose dal maltempo, ma il personale del Rona è riuscito a recuperare lo stupefacente. Un carico che si aggiunge agli altri sequestri effettuati negli ultimi mesi dalla Guardia di Finanza e che va a confermare l'esistenza di traffici illeciti tra l'Italia e altri paesi come l'Albania, con punti di riferimento in Molise. La costa della regione come un crocevia dello spaccio, ma anche una zona monitorata dal reparto specializzato della finanza che ha raccolto ulteriori elementi per accertare la provenienza della droga e individuare anche le basi sul territorio e le modalità di rifornimento. Indagini in corso lungo tutto il litorale. Parliamo adesso di traffico internazionale di armi e delle indagini condotte dalla DDA di Napoli che coinvolgono anche Andrea Pardi, molisano originario di San Pietro Avellana. Sentiamo. La notizia dei quattro arresti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Venezia nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Napoli su un presunto traffico internazionale d'armi ha destato stupore e incredulità a San Pietro Avellana. Il perché è presto detto. Uno degli indagati, Andrea Pardi, amministratore di una società che commercia elicotteri è originario proprio del paese alto molisano. La sua famiglia è molto conosciuta, stimata e ben voluta a San Pietro e anche lui è molto legato alla sua terra d'origine tant'è che un paio d'anni fa aveva bussato alle porte del comune per presentare un progetto che prevede il recupero di una vecchia fabbrica di mattoni ormai in degrado per trasformarla in un eliporto specializzato nel soccorso sanitario. Ma ora con questa inchiesta di mezzo il progetto rischia perlomeno una battuta d'arresto. Andrea Pardi, già sotto i riflettori di una puntata di report poco più di un anno fa, è accusato di aver compiuto nel 2015 atti idonei ad esportare in Libia elicotteri militari di fabbricazione sovietica, fucili d'assalto, missili e materiale dual-yuge, cioè progettato per usi civili ma che può essere impiegato anche in ambito militare. Tutto questo l'avrebbe fatto senza le autorizzazioni ministeriali previste e che mai avrebbe potuto ottenere, visto che il paese africano è sottoposto a embargo internazionale. Oltre a lui sono stati arrestati anche un cittadino libico, Mario Di Leva e la moglie Anna Maria Fontana, residente a Pescasseroli. La coppia, originaria di San Giorgio a Cremano, ha fatto un certo scalpore per via della conversione all'Islam. Sui due pendono accuse gravissime. Dal 2011 al 2015 hanno ceduto armi da guerra e altro materiale militare in Libia e in Iran attraverso società estere riconducibili a loro. Ancora cronaca che ci porta all'ecco dove la polizia stradale ha intercettato due molisani che tentavano di truccare un esame di guida, il servizio. Avevano messo in piedi a Boiano una vera e propria stamperia clandestina per produrre documenti falsi per l'espatrio. Due persone, entrambi della città matesina, sono state arrestate all'ecco dalla polizia stradale. Gli agenti hanno sorpreso i due uomini mentre stavano preparando un candidato all'esame per la patente di guida, un esame che sarebbe stato superato grazie ad alcuni riceventi e a un auricolare con il quale avrebbero suggerito le risposte a distanza. Ma da qualche tempo sui due sospettati, uno titolare di un'autoscuola, l'altro indicato come il falsario incensurato, avevano messo l'occhio anche gli agenti della stradale di Isernia e di Campobasso. Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno effettuato diverse perquisizioni che hanno portato al ritrovamento nelle abitazioni e negli uffici dei due sospettati della stamperia clandestina. Una produzione variegata, quella rinvenuta all'interno dell'attività clandestina di Boiano con documenti riconducibili agli stati dell'Unione Europea pronti ad essere falsificati. Tra il materiale sequestrato spiccano titoli validi per l'espatrio, potenzialmente utilizzabili sia per l'immigrazione che per l'immigrazione clandestina e migliaia tra carte di identità, patenti di guida, carte di circolazione, certificati assicurativi. Gli agenti della stradale hanno trovato anche un'ingente somma di denaro contante, macchinari e strumenti informatici, tra i quali hardware e software di ultima generazione e tutti idonei a falsificare documenti. Secondo le indagini, si tratta di un avanzato laboratorio tecnologico che richiederà altro tempo agli investigatori per poter essere analizzato in tutte le sue parti a conferma dell'alto grado di professionalità dei due molisani coinvolti. Ora devono rispondere di ricettazione, falso documentale, furto, riciclaggio di denaro e truffa ai danni dello Stato. La coppia, secondo la ricostruzione degli investigatori che oggi a Lecco hanno tenuto una conferenza stampa, agiva su tutto il territorio nazionale. Parliamo adesso di scuola perché è stato inaugurato in settimana a Campobasso l'edificio scolastico di via Berlinguer destinato agli alunni della Nina Guerrizio Anna Maria Di Matteo. I palloncini colorati all'ingresso a salutare i bambini e le famiglie per tutti loro è un giorno di festa, una sorta di primo giorno di scuola nella nuova scuola. L'edificio di via Berlinguer come promesso dal sindaco di Campobasso Battista ha aperto i battenti per ospitare gli alunni della primaria di via D'Amato chiusa lo scorso mese di agosto. Nessuna inaugurazione per il momento il taglio del nastro ci sarà quando la targa posta all'ingresso della scuola intitolata Nina Guerrizio la poetessa di Campobasso scomparsa nel 1991 sarà sistemata nel nuovo edificio scolastico. Siamo stati puntuali l'impegno era con l'inizio delle attività didattiche del 2017 dopo 20 giorni abbiamo aperto anche quest'altra scuola. Un poco alla volta cercheremo di tornare alla normalità su tutte le scuole cittadine l'impegno è stato notevole soprattutto per la pesantezza delle chiusure che ci sono state in questi anni abbiamo chiuso 17 edifici scolastici man mano ristrutteremo oppure andremo a ricostruire da capo gli edifici che in qualche modo non sono più utilizzabili. La chiusura dell'edificio di via D'Amato ha avuto ripercussioni pesantissime sull'organizzazione della scuola letteralmente smembrata. La scuola di via D'Amato a settembre in pochi giorni si è dimezzata non ha perso parecchi alunni ne ha persi la metà è stata una grossa mortificazione e un danno enorme per gli alunni per le maestre per la organizzazione dei genitori da oggi un nuovo libro una nuova pagina si riparte. Il comitato dei genitori di via D'Amato soddisfatto per il risultato raggiunto. Oggi è un giorno di festa per la nostra comunità e soprattutto anche per la città di Campobasso io spero che il sindaco ce ne darà altre di queste giornate perché la città di Campobasso ne ha bisogno. Avere portato una battaglia comunque dura e difficile voi e i vostri bambini costretti ai doppi turi da settembre quindi insomma parecchi mesi di difficoltà. Ho portato una battaglia esatto molto lunga da gennaio dell'anno scorso che ci battiamo per la sicurezza della nostra scuola agosto ha chiuso la scuola dal 12 settembre facciamo i turni di pomeriggio sono stati quasi cinque mesi molto lunghi molto duri soprattutto per i bambini anche per le famiglie che hanno dovuto rivedere un po' tutto l'assetto familiare però sono felici sono contenti un grazie va anche alle maestre che comunque hanno supportato benissimo questo disagio che c'è stato e insomma i bambini non si sono stressati più di tanto è tutto termina qui il nostro appuntamento con sette giorni di cronaca grazie per averci seguito e arrivederci a Autore dei sovrapposti